Il rapporto con Termignoni è nato nel 2009 grazie all'accordo di distribuzione sottoscritto dall'Andriani Group, azienda per cui ho lavorato 17 anni. Questo accordo è cresciuto negli anni portando a reciproche soddisfazioni e creando un legame forte, un legame quasi non più lavorativo ma molto vicino a un rapporto di amicizia con la famiglia Burnengo. La scelta di arrivare alla direzione commerciale di Termignoni nasce da questo reciproco scambio lavorativo negli ultimi anni con la famiglia Burnengo con enormi soddisfazioni commerciali, con delle crescite costanti e con degli obiettivi molto importanti. È stato molto difficile staccarsi dal gruppo Andriani ma specialmente da Giuseppe Andriani titolare nonché un rapporto di amicizia di lunga data. 17 anni sono tanti ma si parte anche per avere dei nuovi stimoli e delle nuove avventure. La mia nuova avventura con Termignoni sarà focalizzata nel migliorare il prodotto nonché creare nuove strategie commerciali concentrandomi esclusivamente su questo brand. La mia esperienza nasce dalla gestione di diversi brand fino ad arrivare a circa 13 brand, pertanto attualmente sarò focalizzato solo ed esclusivamente su Termignoni. Il futuro di Termignoni sarà in crescita, si guarderà ad altri brand, si creerà un prestigio ancora più esclusivo sul marchio, ci saranno nuove tecnologie applicate al mondo degli scarichi, nuove tecnologie collaterali al mondo degli scarichi e cercheremo di portare un qualcosa solo ed esclusivamente nello stile italiano in un futuro. Il futuro incomincia qui.